Viene finalmente pubblicata nella Gazzetta Europea la gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla fattibilità tecnico-economica del nuovo ospedale di Pesaro da realizzare a Muraglia. Un progetto pronto è sottolineato dagli assessori regionali Baldelli e Saltamartini che questa mattina hanno fatto tappa al San Salvatore per fugare dubbi su rallentamenti all'avanzamento del cronoprogramma sulla nuova edificazione ospedaliera. Acquaroli era stato molto chiaro poco più di un anno fa, avremmo sfruttato i mesi che avevamo davanti per realizzare finalmente una struttura che la città di Pesaro, la provincia di Pesaro Urbino, la sanità regionale aspettavano da decenni, se ne parla del 1969, in due anni e mezzo il presidente Acquaroli mantiene questa promessa insieme alla sua giunta. Siamo veramente in uno stato avanzato perché si sta chiudendo l'iter che porta alla presentazione della gara per la progettazione, un importo di oltre 200 milioni di euro, 10 milioni di euro circa di progettazione, sulla quale è arrivata la bollinatura dell'Anac. È una procedura che noi abbiamo scelto perché questa è la più grande gara d'appalto a memoria realizzata nella storia della regione Marche e si inizia proprio da Pesaro per poi proseguire con Macerata, San Benedetto del Tronto e tutte le altre strutture che stiamo riqualificando per rispondere alla sanità del terzo millennio nella nostra regione. Alla presenza dell'architetto Nardo Goffi e della direttrice generale dell'azienda sanitaria provinciale Nadia Storti, gli assessori hanno documentato un iter che alla luce del nuovo codice degli appalti viaggia per venire affidati i lavori nella prima metà del 2024 per poi dare il via al cantiere nello stesso anno. Noi abbiamo dato solo una data certa perché poi le procedure come avete visto è stato modificato dal Parlamento il codice degli appalti, sfruttiamo le nuove procedure del codice degli appalti e come avevamo detto stiamo rispettando i tempi proprio perché oggi parliamo di completamento della procedura per la progettazione anche per sottolineare alcune comunicazioni magari che erano state precisare, alcune comunicazioni che abbiamo ascoltato nel corso di queste settimane non precise e invece col collega Saltamartini in questi mesi abbiamo lavorato per il documento di indirizzo alla progettazione, sappiamo che cosa ci sarà a Pesaro, sappiamo come verranno risolte le interferenze a favore della comunità pesarese, sappiamo che abbiamo trovato le risorse reali per la costruzione del nuovo ospedale di Pesaro come per la rivisitazione e la riorganizzazione di tutti i presidi della nostra regione. Saltamartini ha invece lenito le preoccupazioni levitate a Pesaro nelle ultime settimane in merito a rischi di interferenze e problematiche di trasferimenti di reparti fra il San Salvatore e l'attuale presidio di Muraglia. Noi abbiamo fatto un incontro con i medici e con i primari e abbiamo deciso sostanzialmente una riorganizzazione soft che possa evitare di privare Pesaro dei servizi fondamentali e necessari quindi non è vero che verrà spostato il reparto materno-infantile, non è vero che ci saranno altri traslochi ci saranno delle sistemazioni che probabilmente potranno interessare alcuni reparti valutando, lo voglio dire, che nei due anni precedenti in presenza del Covid la palazzina F del San Salvatore è stata dotata di strumentazioni per le terapie intensive che sono all'avanguardia non solo nella nostra regione ma a livello nazionale quindi tutto viene inserito all'interno di un programma che chiaramente ha avuto come premessa degli investimenti sulla città di Pesaro. Sull'ospedale voglio dire due cose molto importanti oggi Pesaro ha 285 posti letto, li portiamo a 328 quindi ci sarà un potenziamento della sanità pesarese e in caso di emergenza arriveremo a 350 posti letto quindi mai c'era stato uno sforzo della regione per il potenziamento dei posti letto nella città di Pesaro che erano i più bassi della nostra regione e lo sforzo finanziario, lo sforzo operativo mi pare sia sotto gli occhi di tutti C'è da aggiungere che contrariamente a quanto si è detto Marche Nord la unificazione con l'area vasta 1 ha portato obiettivamente un avanzamento della sanità nel pesarese tant'è vero che vengono confermati innanzitutto c'è un aumento di posti letto per tutte le specializzazioni e poi c'è un potenziamento delle specializzazioni di secondo livello alla realizzazione dell'ospedale il piano sociosanitario prevede l'avvio di concorsi, di bandi di concorso sapete perfettamente che il problema della sanità in generale italiana è la mancata formazione di medici ma le borse di specializzazione che la regione ha finanziato farà sì che con i nuovi ospedali ci saranno anche medici e infermieri questo è un dato assolutamente incontrovertibile e oggettivo dopodiché è chiaro che la stampa, l'opposizione ha il diritto di fare l'opposizione però l'amministrazione quando è in carica ha il diritto di parlare con i fatti i fatti sono investimenti mai visti su Pesaro, potenziamento del numero di posti letto potenziamento delle specializzazioni e soprattutto la salvaguardia di specializzazioni che sono di ospedali più grandi, ospedali di secondo livello grazie